Senz'altro l'iniziativa è lodevolissima, che va supportata da tutti indipendentemente dalla bandiera o dalla posizione di ciascuno, perché riguarda l'intero territorio e tutti gli agricoltori indistintamente. È chiaro che la provincia di Lecce, che ha avuto un danno sin dal 2014-2015, quindi siamo ormai sui 7-8 anni, abbiamo visto che i ritardi purtroppo della macchina burocratica non consentono un recupero della redditività. È chiaro che bisogna in qualche modo ristorare questi ritardi non dovuti ai singoli beneficiari che vorrebbero subito ripiantare e ripartire, però purtroppo le norme sono quelle ancora, nonostante tante tereo che sono concesse dalla Regione e dal Ministero, sono ancora quelle di quando gli olivi erano protetti ed erano giustamente vincolati. La sovrintendenza ancora pone molti freni su quelle che sono le possibili attività di rimpianto e comunque ci sono tanti vincoli anche sulla risorsa idrica, molte zone sono di divieto in lungimento per cui non si possono fare pozzi. Bisognerebbe, come diceva lei, un piano veramente importante, organizzato e sistematico per dare delle risposte per ogni singola area e soprattutto nel frattempo che questo avvenga bisogna ristorare gli agricoltori che ormai sono da 7-8 anni senza alcun indennizzo e senza alcun reddito. Per cui i tre anni previsti dalla normativa ordinaria sono superati, non sono più all'ordine del giorno, bisogna sicuramente portarlo almeno a 5 anni perché il mancato reddito ormai è praticamente per 8 anni, le aziende sono già 8 anni che non hanno reddito.